Ciao a tutti e benvenuti tornati a mio canale YouTube. In questo video vedremo la costruzione completa del cibo di un nuovo organo. Infatti, qui puoi vedere i canali interni che portano l'air dai palletti ai pipi. Questo video è parte di una serie dove mostro la costruzione di un organo portativo medieval che stavo per un amico mio amico. In descrizione il link ai altri video. Per continuare, abbiatevi al canale per non perdere i altri video. Grazie e buona visione! Grazie a tutti! 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 Qualcina prima cosa ci vedremo la costruzione di un manualo? Bye! Adesso vedremo il suo libro di un manualo.